Il primo ministro libanese uscente Hassan Diab e altri ex ministri sono stati incriminati per negligenza nel quadro dell'inchiesta sull'esplosione al porto di Beirut dello scorso 4 agosto. Secondo le indagini condotte dal giudice Fadi Savan, Diab, l'ex ministro delle finanze Khalil, gli ex ministri del lavoro Zuhaiter e Fenianos erano stati avvisati più volte sui rischi legati ai ritardi nello smaltimento del nitrato di ammonio immagazzinato al porto della capitale. Dopo il disastro che costò la vita a 200 persone e fece danni per oltre 3 miliardi di dollari, Diab si è dimesso. Ma è rimasto comunque in carica in attesa che si formi l'esecutivo del premier designato Saad Ariri.